ragazzi siete dei grandissimi dovrei iniziare questo video con io questo video non lo volevo neanche fare ragazzi come i veri youtuber professionali fantastici di che cosa voglio parlare dell'articolo di milano finanza che oggi ci dice che colpo di scena fricking ci ha ripensato sullo stadio a tordivalle e sta cercando una nuova sistemazione allora ammesso che questo fricking è libero di fare quello che vuole nella sua vita dobbiamo chiarire un concetto mi dispiace che nessuno ci sia arrivato dei giornalisti dei giornali per quale motivo perché è evidente che nella trattativa o comunque nel prezzo d'acquisto della roma passata di mano da fricking c'è la pallotta a fricking c'è incluso un qualcosa che è lo stadio o tutto il progetto stadio chiaramente non è ancora stato approvato definitivamente perché manca un ultimo step sappiamo tutto quello che sta succedendo a roma che è successo in questi anni con il progetto stadio il progetto adesso è in una fase in cui vitec sta acquistando i terreni di tordivalle alcuni dicono che abbia già firmato e che si sta attendendo esclusivamente che sia convocato il cda di unicredit per confermare la gestione comunque di un bene che esula un po' dall'attività normale della banca e quindi ha bisogno anche della conferma da parte del cda comunque dovrebbe avvenire a giorni questa cessione sappiamo che fricking si è incontrato con la raggi quando è venuto qui a roma avevo detto una sicuramente una delle cose che sicuramente farà è quello di incontrarsi con la raggi si è incontrato con la raggi in gran segreto all'interno dell'ambasciata americana nessuno ha più informazioni dalla società perché i fricking sono maniacali dal punto di vista della privacy cioè non condividono nulla non dicono nulla non sa nessuno sa dove siano se dan sia ancora in italia o meno e questo sta mandando molti giornalisti in tilt quindi ci dobbiamo affidare al cervello prendiamo due numeri prendiamo due numeri ragazzi perché vi voglio far capire che cosa è successo nella cessione della roma diciamo che questo era un video che avevo preannunciato tante volte non ve l'avevo fatto perché dovevo prendermi un attimo due numeri fare due divisioni e non mi andavo oggi ve l'ho fatto quindi subito like vi supporto a questo video e condividetelo con i vostri amici che cosa è successo nella cessione della roma sto prendendo il comunicato la valutazione dell'operazione è stata data all'interno del comunicato per 591 milioni di euro benissimo poi si parla di 549 ascrivibili al club nessuno gliene ha fregato niente di dove dove si è andati gli altri 41 milioni di euro ma va bene ipotizziamo che non ci sia il discorso stadio cioè che effettivamente quello che abbia acquistato quello che ha acquistato fricchi insieme solamente la squadra ma non ha acquistato la squadra la s roma s piano e non ha acquistato il 100 per cento delle delle quote della s roma s pa ma ha acquistato l'ottantasei virgola sei per cento quindi ipotizziamo che sia stata data una valutazione per l'ottantasei virgola sei per cento di 591 milioni di euro voglio ragionare come tutti i giornalisti benissimo a questo punto stiamo dicendo che il 100 per cento della roma della s roma s pa vale 587 milioni di euro bene a fronte di questo nel momento della trattativa della gestione chi va ad acquistare la roma sa già che acquistando la roma oggi non stai acquistando una società che non ti produce perdita o quanto una che ti finisce in pareggio stai acquistando una società che ti richiederà almeno almeno nel breve di andare a coprire delle perdite di l'anno scorso 200 milioni di euro quest'anno almeno 100 l'anno successivo almeno 50 a meno che di clamorose operazioni ma anche lì c'è da vedere perché se incominci a vendere zagnolo se vendi pellegrini se vendi altri comunque sia i tuoi ricavi si andranno ad abbassare comunque sia c'è il discorso del covid di mezzo quindi sicuramente il risultato di quest'anno ragazzi sarà superiore a 100 milioni di euro di perdite ma teniamoci stretti quello dell'anno dopo anche almeno una cinquantina a meno che di miracoli cioè se la roma dovesse entrare in champions league quest'anno e l'anno prossimo comunque sarebbe una cosa positiva ma abbiamo una macchina che brucia milioni di euro cioè la roma ha bruciato 200 milioni di euro l'ultimo anno benissimo è chiaro che alcune di queste perdite erano già state coperte all'interno dell'operazione perché comunque la ricapitalizzazione è già stata approvata la pallotta vogliamo stimare ulteriori 150 milioni di perdite che sono ragionevolmente prevedibili per i prossimi due anni cioè stiamo stimando che comunque i fricchi dovranno andare a ricapitalizzare con 150 milioni di euro io penso che sia una cosa ragionevole benissimo quindi stiamo dicendo che i fricchi si sono comprati la roma c'è la s roma spa andando a valutare tutto quanto 837 milioni di euro benissimo la valutazione fatta dalle società di consulenza chiaramente in un'ottica non di gestione ma di di going constant cioè di diciamo una valutazione per un funzionamento normale della società è di circa 500 milioni di euro pre covid non post covid quindi stiamo affermando che i fricchi insegnano completamente nei passi scatenati cosa che io non penso che loro siano quindi il discorso qui è uno ed uno soltanto nella gestione chiaramente il prezzo può essere aumentato abbassato perché ci sono le forze contrattuali quello che vi pare benissimo però mi sembra che per arrivare ad una valutazione simile ce ne passi ce ne passi quindi senza ombra di dubbio ci deve essere qualcosa all'interno di questa valutazione che ha fatto salire chiamiamolo prezzo ma comunque la valutazione stessa che cosa è questo dal mio punto di vista è innegabile che sia il progetto stadio cioè il progetto stadia tour di valle perché non vedo che cosa possa essere l'amore per la roma di ryan che si sveglia e c'è il poster di totti in camera può essere apri chiudo una parentesi faccio le condolianze a totti alla famiglia perché ieri doveva mancare il padre che è sempre una cosa una cosa drammatica non ho fatto vita riguardo perché secondo me ragazzi in questi casi non serve niente fare video riguardo ma è chiaramente un momento drammatico della vita di ogni persona quindi ryan dubito che sia venuto dalla da houston o dann se si è svegliato un giorno e abbia detto voglio andare a prendere la roma perché mi stanno simpatici è evidente che siano venuti qui a tratti anche dalla possibilità di andare a costruire un intero quartiere dedicato alla roma con la possibilità di avere anche un business park e a tutte altre situazioni che conosciamo quindi quindi tornando al discorso di milano finanza iniziale qualcuno ha anche scritto su twitter pomezia finanza addirittura superiore a milano finanza non lo so pomezia capitale addirittura milano succursale questo lo dite voi quello che vi dico io è che sicuramente c'è la possibilità di per freaking di fare quello che assolutamente lo vuole ma mi sembrerebbe assolutamente irrazionale non provare a portare a termine un progetto che va avanti da nove anni è un progetto che ha avuto chiaramente tutto il le difficoltà che conosciamo ma andare a iniziare un progetto da un'altra parte non significa realizzarlo in due anni come la gente sta ipotizzando adesso o meglio vederla approvata in due anni perché non è così ci saranno persone che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote perché vorranno essere ottenute in considerazione dove girano soldi ci saranno interessi che proveranno ad essere messi in gioco freaking ha parlato con la raggi non ha parlato con altri sindaci il sindaco l'area che viene sempre riproposta è quella di fiumicino che è un'area sicuramente ragazzi facilmente accessibile ma un'area che sta fuori dalla città non è un'area facilmente raggiungibile per esempio da turisti qualora tu voglia fare uno stadio stile quello del barcellona è un'area che sta separata dalla dalla città che non è sicuramente comoda e facilmente raggiungibile per altre operazioni che non sia quello di andare allo stadio chiaramente alcuni di voi ti dicono ma me che me frega ma bene tutto ragazzi continuate a non fregarvene però dovete accettare il fatto che lo stadio deve essere un veicolo per portare soldi nelle casse della della società e deve andare ad aumentare un pochettino al tuo brand cioè deve essere un posto che deve essere vissuto durante tutta la settimana non solo durante le partite questo è un concetto chiaramente assodato da alcuni non assodato da altri non ci posso fare nulla comunque tutto questo per dirvi ragazzi che il prezzo della roma deve includere necessariamente anche il progetto stadio che poi il progetto stadio se poi mi chiedete il progetto stadio sarà approvato al 100% ragazzi tutte le forze politiche stanno dicendo di sì perché ci sono le elezioni adesso la loro falsità si sta manifestando in questo momento stanno conclamando il fatto che la loro falsità la stanno sventolando ai 420 ma ci sono persone che hanno difficoltà a capire questi concetti base e quindi e quindi loro lo fanno perché si prendono gioco delle persone un po più deboli dal punto di vista mentale detto questo vediamo che cosa succederà sicuramente uno dei prossimi passi è il passaggio effettivo e definitivo dei terreni da Vitec cioè da da Parnasi a Vitec cioè definito questo ragazzi mi sembra una follia andrà a pensare che Fricchi possa spostare il progetto stadio da qualche altra parte perché un anno fa lui parlò con Vitec già quando era iniziata la trattativa con la roma parlò con Vitec e mi sembra folle pensare che un investitore della serietà dei Fricchi perché comunque siano bravi o meno bravi quello che hanno dimostrato è sicuramente la serietà mi sembrerebbe folle pensare che questi tipi di soggetti cioè che Fricchi, Dan e Ryan vadano a far acquistare i terreni a Vitec e poi facciano saltare un accordo che evidentemente tra le due parti c'è perché se Vitec acquista terreni è per far sì che Fricchi nella roma possono costruire lo stadio e tutto il progetto su quei terreni stessi. Detto questo vi saluto spero di essere chiaro se ci avete domande lasciatele sotto nei commenti vi ricordo di iscrivervi al canale perché molti non lo fanno per frichizia ma iscrivetevi al canale. Detto questo ciao Tattico e ciao a tutti quanti